ma prima lo senti io, sono venuto uscito ma se c'hai il cazzo come fai a entrare a dire dove è? ma Strut, con te chi ha parlato? Strut, non sei tanto a me, non sei tanto a me, non sei tanto a me un mese manca ancora tre giorni è stata alla palude alla palude è stato in piedi, siamo i cocodrilli di oltre eh, per allenarsi cazzo gli abbiamo pagato a mangiare i cocodrilli se la rio qua mi mangiano cazzo eh, non so, devi chiedere a lui sei in forma, zio ti vedo un po' la satella ha mangiato troppo allora eh, senza cosino sarà difficile che parte eh c'hai ragione anche tu c'hai ragione anche tu punti un po' la slema un po' la cibo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bravo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti